come avete visto ci sono anche dei momenti di alterazione tra loro e qui andiamo a fare il lavoro di orientamento del branco orientamento gerarchico noi facciamo da punto di riferimento questa nostra leadership ci aiuta a interagire con loro anche bravi bravi questa è un'interazione tra cuccioli e il loro modo di giocare però prendono le basi di quello che sarà il loro lavoro di tipo relazionale bravissimo bravo adesso loro hanno superato la fase dell'imprinting con il tartufo di addestramento per tutto quello che che può concernere la mancanza di vizi di abitudine sul tartufo in questo momento io mi aiuto con una pallina proprio per discriminare il momento tra tartufo e il gioco di ritualizzazione bravissimo bravo 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 bravissima brava brava ok siamo a un bel livello del lavoro bravo bravo la mancanza di vizi di asia in questo momento Grazie.